Gentili telespettatori, un cordiale saluto da Marco D'Agostino e ben ritrovati su Visione TV. Vi presento con grande piacere l'ospite di oggi, Fabio Conditi, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Marco, grazie a te di avermi ospitato sul vostro canale. Fabio Conditi, esperto di economia, presidente di moneta positiva, con lui oggi parleremo di questa tassa degli extra profitti varata dal governo presente nel decreto Omnibus. Cercheremo di analizzarne il contenuto, di comprenderne i vantaggi, gli svantaggi e soprattutto perché è così importante questa norma. Cercheremo anche di analizzare le varie reazioni, non solo dei giornali, ma anche dei politici, sia di maggioranza che dell'opposizione. Fabio, la prima domanda che volevo farti è, puoi spiegare ai nostri telespettatori qual è il contenuto di questa norma? La norma riguarda essenzialmente una tassazione aggiuntiva rispetto a quella che esiste già all'interno del sistema bancario per quanto riguarda i profitti nell'esercizio dell'attività bancaria. Perché è nata questa norma? Perché negli ultimi mesi, soprattutto a causa dell'aumento del tasso di interesse da parte della Banca Centrale Europea, questo aumento del tasso di interesse ha generato ovviamente un aumento del costo per i prestiti mutui da parte del sistema bancario, ma è un aumento importante e che ha prodotto un aumento dei profitti del sistema bancario notevole. Perché? Perché a fronte di questo aumento del costo dei prestiti non sono stati aumentati i rendimenti sui conti correnti della Banca. Cioè la banca fa due attività. Quella di prestare nuovo denaro a chi lo richiede, a un certo tasso di interesse, e quello di remunerare i conti correnti di chi tiene le supposità di soldi in banca. Bene, i soldi in banca vengono tenuti sempre praticamente a zero costo di interesse, mentre i prestiti nuovi che vengono fatti vengono oggi aggiornati con dei costi molto elevati che quindi comportano vantaggi molto grandi. Però una cosa che va chiarita, quando si parla di extra profitti da parte del sistema bancario, bisognerebbe avere consapevolezza che esistono degli extra costi per qualcun altro, cosa di cui nessuno parla. Cioè a fronte di questi profitti aumentati c'è stato un aumento del costo del denaro, sia per quanto riguarda muti che per quanto riguarda i prestiti degli imprese, che ha comportato un impoverimento dell'economia reale che quindi è questo il vero problema. Quindi la tassazione agisce sui buoi che sono usciti dalla stalla, ma non agisce sulla causa del problema che rimane perché cittadini e aziende seguitano a pagare il denaro a un costo troppo elevato rispetto a quello che dovrebbe essere. Fabio vuoi spiegarci quali sono le tue considerazioni a proposito in merito di questo provvedimento? Come lo giudichi? Intanto lo giudico moderatamente positivo perché è la prima volta che un governo italiano va a toccare gli interessi del sistema bancario. Noi abbiamo assistito in questi ultimi anni a politiche d'austerity con un aumento di tassazione verso tutte le categorie produttive, economiche, eccetera, ma non abbiamo mai visto un aumento della tassazione sul settore bancario. Anzi, come tu sai, il settore bancario gode di un privilegio che non ha nessun'altra azienda nel sistema economico italiano. Quando una banca va bene i guadagni e i profitti sono divisi tra gli azionisti, quando la banca va male interviene lo Stato e quindi anche la collettività che mette soldi all'interno del sistema bancario per salvare la banca. Quindi la banca è un soggetto molto particolare per il quale lo Stato spende dei soldi tutte le volte che va male e perde quando invece l'attività va bene. Quindi questa tassazione ha il vantaggio in dubbio che per la prima volta si vanno a toccare interessi di tipo oligopolistici del sistema bancario, perché il sistema bancario è ormai un sistema di oligopolio nel quale le banche praticamente non si fanno concorrenza tra di loro e fanno tutte quante le stesse politiche. Quindi per la prima volta questi soldi vengono tassati dallo Stato e speriamo che vengano utilizzati, come è stato promesso, per risarcire chi ha perso da questa attività, quindi chi ha avuto mutui che sono cresciuti in maniera esagerata e che vengano quindi redistribuiti a chi in questo momento è in difficoltà. Io credo che attualmente il popolo italiano non abbia compreso a pieno quanto sia importante questa norma e perché. Ce lo vuoi spiegare perché questo provvedimento è di un'importanza fondamentale? Ma intanto perché, contrariamente a quella che è l'opinione di tutti, il sistema bancario, in Italia ma in tutte e quante le nazioni del mondo, è l'elemento che produce la moneta all'interno del sistema economico, cioè la moneta elettronica bancaria che è creata dal nulla, dal sistema bancario, in Italia soprattutto è privato, è più del 97% di tutta la moneta che usiamo. Quindi noi ci troviamo in un sistema economico dove il sistema bancario decide non solo la quantità di moneta che viene generata all'interno dell'economia, ma decide anche la destinazione, cioè a chi prestare questi soldi. E sappiamo, lo sanno tutti gli imprenditori e le famiglie che hanno provato a chiedere soldi in prestito all'interno di una qualsiasi banca, che in realtà i soldi vengono prestati prevalentemente a chi ha ampie garanzie, quindi già chi ha attività economiche sicure e ha già una ricchezza abbondante e non vengono prestati facilmente a chi invece è in difficoltà e che ha bisogno realmente di questi soldi. Quindi il sistema bancario diciamo che è prociclico, tende a prestare i soldi a chi ce li ha già e a chi offre ampie garanzie, ma non li presta a chi è in difficoltà. Questa è la ragione per la quale nei momenti di difficoltà, di recessione, il sistema bancario spesso non è di aiuto a famiglie ed imprese, ma anzi provoca un aggravamento della situazione perché spesso riduce la capacità di fare prestiti a famiglie e imprese, contrariamente a quello che dovrebbe fare. I principali quotidiani nazionali hanno criticato fortemente questa norma, tranne il fatto quotidiano stranamente in una versione filogovernativa. Ecco, a me ha colpito molto il titolo del Corriere. Non è difficile capire il perché, voglio dire, basta pensare chi sono i proprietari dei maggiori giornali italiani, quindi probabilmente sono più interessati ai loro interessi diretti che non a quelli del popolo italiano. Stavo dicendo a proposito, mi aveva colpito il titolo del Corriere della sera, che titola appunto Borse e banche giorno nero. Anche la stampa internazionale è molto critica nei confronti del governo italiano. Il Financial Times ha pubblicato un articolo in cui spiega che la tassa sulle banche miglia la reputazione dell'Italia. Ecco, la strategia messa in campo, diciamo attuata dai giornali nazionali e internazionali, possiamo definirla come una strategia del terrore, oppure dobbiamo veramente preoccuparci? No, no, è la solita strategia che tende ad individuare un problema o un'emergenza all'interno di misure che invece vanno a vantaggio dei cittadini e a svantaggio di situazioni di interessi particolari, soprattutto quelli finanziari. Cioè il problema, purtroppo, ma questo è un problema generale di tutta l'informazione a livello mondiale, è che i principali giornali sono detenuti da istituzioni finanziarie e anche banche che hanno tutto l'interesse a far passare un messaggio diverso da quello che dovrebbe essere. Quindi chiaramente una misura che va contro il sistema bancario a favore di una riduzione generale della tassazione per la popolazione non è ben vista dalle grandi istituzioni finanziarie e dalle banche e quindi tendono a creare una narrazione che impaurisca e provochi una paura all'interno della popolazione in modo tale da giustificare il ritorno nella loro comfort zone, cioè nella loro situazione di guadagno continuo da questa situazione. In realtà la situazione è ben diversa, ma questo atteggiamento dell'informazione mainstream noi lo troviamo non solo all'interno di questa misura, ma all'interno in generale dell'economia quando si favoriscono e si incentivano politiche di austerity contro tutte quante le verifiche che sono state fatte che non hanno mai portato dei risultati o come quando si fomentano emergenze climatiche, emergenze sanitarie per giustificare situazioni nella quale qualcuno ha da guadagnare da una situazione di questo genere. Ecco, io volevo adesso analizzare i vari punti di vista all'interno della maggioranza, perché il governo appare spaccato su questa norma, perché mentre Salvini e Meloni sembrano tirare dritti, invece Forza Italia sembra un po' frenare. Ecco, perché Forza Italia secondo te si contrappone a questo provvedimento? Lo considerano un provvedimento illiberale o forse che va a intaccare gli interessi di Mediolanum? Anche qui la motivazione l'hai detta anche tu, cioè all'interno della composizione del governo, Forza Italia rappresenta sicuramente la forza politica più vicina agli interessi finanziari e bancari che non, diciamo, degli altri due partiti. Hai nominato Mediolanum, che è sicuramente di proprietà del gruppo Berlusconi e quindi che è il fondatore di Forza Italia, quindi è naturale che da quel punto di vista si cerchi di incentivare politiche cosiddette liberali che però sono liberali per i pochi e privilegiati che guadagnano continuamente da questa situazione e sono sicuramente poco liberali per la popolazione in generale e per le piccole e medie imprese. Quindi stiamo sempre parlando della tutela di interessi corporativi che, diciamo, in Italia purtroppo sono sempre stati prevalenti rispetto agli interessi della collettività. Faccio un scusa, una piccola parentesi che prima mi hai chiesto e che non ho risposto. Sì, sì, prego. Il famigerato aumento diciamo costo sui mercati finanziari per il fatto che le azioni delle banche sono crollate, sono calate sui mercati finanziari. Questo aspetto che viene, diciamo, citato come di una sciagura che, diciamo, non è compensata da questa tassazione in realtà riguarda solo pochi speculatori finanziari. Non riguarda neanche risparmiatori che magari hanno comprato le azioni Unicredit d'Intesa San Paolo e che se le tengono, diciamo, per degli anni. Cioè, riguarda solo chi fa speculazione finanziaria e vende e compra ogni giorno le azioni e che quindi in questo caso se oggi dovessero o volessero vendere delle azioni bancarie si ritroverebbero che valgono meno di quello che valevano la settimana scorsa. Ma questo, diciamo, non può essere dato l'interesse speculativo di poche persone, non può essere diciamo limitativo di una misura che deve andare a vantaggio della collettività e non certo degli interessi personali di qualcuno. Quindi, secondo te questa norma non va, diciamo, ad avere un effetto negativo sulla redditività delle banche? No, cioè, riduce la redditività delle banche, ovviamente. Cioè, la redditività delle banche che è esplosa a livelli esagerati viene ridotta e riportata in un ambito che è un po' più corretto, perché ricordiamo anche una cosa, le banche non sono un'attività produttiva normale, cioè non è che producono con la loro attività qualcosa che, diciamo, può essere poi venduto nella collettività. Le banche sono autorizzate dallo Stato, dal governo e della Banca Centrale Europea a produrre denaro in nome e per conto di tutta la collettività. quindi non fanno un'attività per la quale la loro attività ha, diciamo, un'importanza fondamentale. Fanno un'attività che svolge un ruolo pubblico perché creano la moneta che poi serve a tutta la collettività. Quindi non può essere che la banca diventi concessionaria di un'attività così importante e a valenza pubblica e guadagni su questa attività delle cifre che vanno al di là di quello che è giusto di quello che è normale. Quindi dal mio punto di vista questa misura è giusta però andrebbero fatti dei correttivi per evitare che ci siano gli extra profitti. Cioè come dicevamo all'inizio per ogni extra profitto esiste un extra costo per qualcuno e siccome questo qualcuno è la popolazione italiana le famiglie le imprese va bene la tassazione bisognerebbe anche ridurre gli extra costi e ci sono strumenti per poterlo fare si possono mettere dei tetti ai mutui si possono individuare i tassi di usura più bassi in modo tale da limitare l'aumento del tasso di interesse da parte banca ma soprattutto si può come fa la Germania introdurre nel sistema economico un sistema anche di banche pubbliche che permetta di calmierare l'attività bancaria come tu sai l'attività privata non è soggetta al controllo pubblico ma l'attività pubblica sì quindi le banche pubbliche potrebbero fare da calmiere riguardo a determinati prestiti interessi e determinati rendimenti sui conti correnti che potrebbero essere diciamo un vantaggio per la collettività se no il regime delle banche è oligopolistico ecco tornando diciamo alle opinioni dei partiti di 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 opposizione sappiamo che PD e 5 Stelle hanno accolto favorevolmente questo provvedimento secondo te perché ma da una parte perché almeno il movimento 5 Stelle qualche volta l'aveva diciamo ipotizzata una misura di questo genere verrebbe da chiedersi perché non l'abbiano mai fatta però sicuramente questa misura va a vantaggio della popolazione e quindi meno a vantaggio di interessi oligopolistici da parte del sistema bancario quindi secondo me faccio più fatica a capire il motivo per cui il PD abbia diciamo parlato bene di questa misura perché il PD si è sempre caratterizzato nel passato con diciamo attività e legislazioni che andavano più nella direzione di salvare le banche piuttosto che e di avvantaggiare le banche piuttosto che diciamo andare contro i loro interessi per cui penso che sia più un atteggiamento diciamo di tipo elettorale sanno che una misura di tassazione degli extra profitti è una misura che accoglie è un grande consenso da parte della popolazione e non c'è nessuno che si può permettere di dar contro a una misura che è sostanzialmente giusta perché le banche guadagnano oggettivamente troppo in questo momento oppure forse il PD è diventato un partito di sinistra chi lo sa comunque è dubito guarda su questo penso che sia veramente difficile oggi diciamo la categoria di sinistra è veramente complicata da trovare però se decidessero di ritornare a tutelare gli interessi della popolazione dei lavoratori eccetera sarebbe una notizia questa sicuramente ricordiamo anche che il PD nasce dalle generi del Partito Comunista Italiano comunque tornando alle opinioni dell'opposizione l'unica contraria è quella di Carlo Calenda che ha affermato recentemente tassando le banche puniremo i risparmiatori come confuti questa tesi no questa è veramente una balla cioè non vedo i risparmiatori o hanno i soldi sui conti correnti e attualmente già prendono zero e meno di zero non possono prendere oppure hanno i soldi investiti sui mercati finanziari e quindi come dicevo prima se hanno investito nelle azioni del sistema bancario e queste azioni le tengono cioè non le utilizzano per comprare e vendere tutti i giorni come fanno chi fa speculazione finanziaria diciamo che a medio lungo termine i valori di queste azioni torneranno su valori accettabili adesso è una situazione momentanea che avendo prodotto una differenza piuttosto importante sui profitti e chiaramente c'è una manovra speculativa per ridurre i valori di queste azioni ma i risparmiatori non sono toccati da questa situazione Fabio noi sappiamo anche che il comitato di presidenza dell'ABI si è riunito in questi giorni appunto per discutere per prendere posizione una posizione definitiva su questo provvedimento ancora non si sa nulla ma diciamo alcune fonti dicono che comunque le banche non vogliono andare allo scontro con il governo quindi io debbo fartela questa domanda questa guerra tra banche e governo quindi è solo ipotetica? Ma no guarda anche io mi sono chiesto e domandato perché il sistema bancario non ha levato gli scudi perché ovviamente quando si parla di una misura che tocca in maniera diretta gli interessi e i profitti del sistema bancario mi sarei aspettato una levata di scudi secondo me non se la possono permettere in questo momento cioè hanno preferito una diciamo una situazione formale ufficiale di non scontro per poter poi in seguito a una trattativa ridurre questo impatto perché si rendono conto che questi extra soprofitti sono talmente evidenti e talmente ingiustificati che oggettivamente si fa fatica a difenderli è un po' come quello che è successo ti ricordi con l'energia cioè quando si è scoperto che Eni nel 2021 aveva avuto 20 miliardi di utile che erano aumentati in maniera del 700% rispetto all'anno precedente oggettivamente quando si è parlato di una tassazione di extra profitti hanno fatto fatica a dire di no poi in realtà in queste misure c'è anche la possibilità che il sistema bancario vada poi da un punto di vista giuridico a combattere e a cercare di tener botta utilizzando il concetto che la tassazione non può essere mai retroattiva o comunque si fa fatica a giustificare una tassazione che sia retroattiva quindi può darsi che abbiano intenzione di agire a porte chiuse in modo tale da ridurre l'impatto di questa misura Ecco io volevo farti un'ultima domanda Fabio si è scritto si è detto che questo provvedimento andrà ad intaccare le politiche andrà a toccare le politiche della BCE ecco secondo te c'è qualcosa di vero in questo in che modo questo provvedimento può contrastare le politiche della Banca Centrale Europea No questa è una delle falsità tra l'altro che viene messa in giro allora le politiche monetarie della Banca Centrale Europea vanno nella direzione di aumentare il costo del denaro per sfavorire la creazione di denaro cioè l'obiettivo della BCE che è un obiettivo falso nel senso che non è mai stato raggiunto e non è questo il motivo per cui l'inflazione cresce però nella loro narrazione aumentando il costo del denaro si riduce la quantità di prestiti all'economia e quindi si può ridurre l'inflazione perché nella concezione neoliberista classica che però è sbagliata l'aumento della quantità di denaro in circolazione produce l'aumento dell'inflazione oggi noi sappiamo che l'inflazione attuale non è generata da aumento del denaro in circolazione ma è generata dall'aumento dei costi delle materie prime e soprattutto dell'energia che è quello che ha determinato l'aumento dei costi e che fa fatica a farli tornare ai livelli diciamo pre-covid quindi in realtà questa misura va nella stessa direzione perché tendenzialmente tende semmai ad aumentare il costo del denaro non a ridurlo perché agisce sulla tassazione ma non agisce come dicevamo prima sul tetto da mettere al tasso di interesse quello sarebbe stata una misura che andava contro la volontà della banca centrale europea cioè quello di dire alle banche voi più di un tot di interesse non potete dare ad esempio se il tasso ufficiale di sconto della banca centrale europea adesso mi sembra sia al 4,25 tu non puoi fare prestiti con un costo superiore al 6% 6,5% quindi una volta e mezzo questo poteva essere una misura che andava effettivamente a vantaggio i cittadini e imprese e poteva essere in controtendenza rispetto a quello che sta facendo la banca centrale europea ma per il resto questa non è una misura contro la banca centrale europea Fabio io ti ti ringrazio per essere stato con noi io ringrazio te abbiamo comunque discusso di una di questo provvedimento insomma molto molto importante che è stato appena varato dal governo abbiamo analizzato diciamo i vantaggi gli svantaggi in che modo appunto hanno reagito i principali giornali nazionali e internazionali e anche qual era qual è stata la posizione presa dai politici di maggioranza e di opposizione Fabio io ti ti ringrazio per essere stato con noi io ringrazio te mi permetti solo una cosa siccome abbiamo fatto un convegno alla Camera dei Deputati il 24 di marzo scorso nel quale abbiamo illustrato come funziona il sistema economico e quali sono le soluzioni per uscirne consiglio tutti di andare sul nostro sito e eventualmente se volete approfondire questi temi prendere questa nostra pubblicazione in modo tale da approfondire dei temi che sono sicuramente importanti va bene Fabio allora con ciò l'intervista si è conclusa gentili telespettatori noi vi ricordiamo che Visione TV vive soltanto grazie alle vostre donazioni potete farlo tramite Bonifico tramite Paypal attraverso i numeri che la regia ha appena mandato in sovraimpressione oppure tramite un abbonamento sul nostro sito www.visionetv.it noi vi ringraziamo per averci seguito e alla prossima Grazie a tutti